Bella a tutti, ora la sentiamo molto, oggi siamo sbagliati di nuovo, stavolta con una nuova aggiornamenti che hanno fatto in pratica presa, noi andiamo a gioca, andiamo a gioca mappa personalizzata che hanno raggiunto in questa cosa, ci sono delle mappe da fare, io non so come sono queste mappe, io scelgo questa, mi sembra più carina, questa l'ho fatta con voi perché, ah, ho le mani piccolte, sono i pugni, non è niente, no, bello, provabili, provabili, un pesce, un altro pesce, un altro pesce, ma questo che vuoi provare? Ciao, fallo, hai fatto? Si l'ha fatto, va bene, va bene, va bene, ecco, non è, non so che cos'è vuole, no, ovviamente perché sono la verrua, lascio la barca, guarda, 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 guarda Non so, ok, ma insomma... ...e... ...e... ...ma non so come... ...istopatrino come voi, non so niente io ...e non so... ...e... ...comi... ...e... ma ecco la missò ottima ma vai da 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 e ma 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 Vedi il tuo nome? Non posso dire che ci siamo, non posso dire che ci sei. Vai, dai, dai, dai. C'è? Ah, no, 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 non c'è via. Ora? Io voglio sapere qual è lo scopo. La cellula. Vai più forte, vai più forte. Vai! Vai forse! Vai! Vai piccolo! Allora! Si, forse. Faccio un'altra. Faccio un'altra molesta. Cos'è sto rumore? Cos'è sto rumore? Sento un rumore. Vai! Potevamo mettere la canzone di Heidi. Basta. Forse ho capito che cos'è questo. Forse questa è la nostra città. Sono messa. Cioè tipo dopo... Non so, dici anni. Dopo trent'anni, non lo so. Con i tempi. Sì. Oh, non lo so se ne andava sta... Sto rumore. Quino all'ossigeno. Ma ciao. Oh no, guarda un'altra. Ora dove sono? Oh no. Oh mio... E... Ma che creepy! Ciao. Oh, guarda qua cosa c'è. Mmm. Ciao. Oh, guarda qua cosa c'è. Ma chi sta? in mano si dice non voglio sapere come si fa, guarda la cosa che ha creato stamattina, mi devo dire come si fa no, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non lo faccio o il cibo muore 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 sono morti questo bordello è stato morto mi sono scherzando va bene grazie 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 ma oh si qua vengono lo 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 fa male il dito di un pollice ok è finito ok niente questo è tutto proprio non me l'aspettavo mai nella vita ma vabbè quindi ragazzi se vi è piaciuto un commento e spolliciate ciao